Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel Finalmente siamo qui con un video abbastanza utile attraverso il quale potrete fare un bel po' di soldi su Red Dead Redemption Online Infatti vi mostrerò alcuni metodi molto facili e soprattutto veloci per raccimolare qualche bottino Prima di iniziare vorrei ringraziare l'amministratore della community Red Dead Redemption 2 Italia Perché solo grazie al suo aiuto se state guardando in questo momento questo video In quanto è stato proprio lui ad insegnarmi questi semplici trucchetti Inoltre se non fate ancora parte della community vi invito vivamente a farne parte Ovviamente troverete tutti i link nella descrizione di questo video Allora il primo metodo abbastanza efficiente è quello di svolgere le diverse missioni presenti nella mappa Sto parlando delle missioni che sulla mappa hanno questa icona qui Ovvero l'icona con l'omino che saluta diciamo così Ovviamente prima di iniziarle vi consiglio vivamente di organizzarvi con i vostri amici Create una post e cercate di comunicare tutti tra di voi Per evitare che magari qualcuno commetta sbagli o faccia di testa propria Inoltre ricordate più siete e più ovviamente guadagnerete Una volta creata la vostra banda avviate una di queste missioni E' indifferente quale tanto alla fine sono più o meno tutti simili Infatti in alcuni dovrete semplicemente consegnare carri In altre consegnare della posta O in altre ancora uccidere lupi per poi consegnarli In alcuni punti che vi indicherà la missione Ovviamente vi starete chiedendo dov'è il trucco per guadagnare Bene quando avviate queste missioni Cercate di non consegnare subito il carro O comunque sia l'oggetto in questione Vi consiglio di avvicinarvi al punto di consegna E in particolare avvicinatevi all'area gialla di consegna Come state guardando nel video Mi raccomando comunque non vi avvicinate troppo Per evitare che termini la missione con la consegna Aspettate quindi in questa zona Fino a quando iniziano a decorrere gli ultimi 30 secondi della missione Quindi quando vedete che mancano circa 30 secondi alla fine Consegnate la merce e guadagnerete di più Questo perché il gioco vi compenserà in base al tempo trascorso in missione E se qualcuno di voi ha giocato a GTA Online Saprà benissimo che questo trucchetto funzionava anche per alcune missioni su GTA Online Comunque il perché vi consiglio di rimanere vicino alla zona di consegna E oltre ovviamente al fatto che ai 30 secondi dalla fine siete già vicini al luogo di consegna Anche perché i giocatori avversari che possono compromettere la vostra missione In questa zona non possono toccarvi Infatti come state notando dal video Loro non possono distruggere il carro o comunque uccidervi Questa zona in un certo modo vi proteggerà da qualunque giocatore Questo ragazzi è una cosa abbastanza positiva Dovrete semplicemente aspettare e il gioco è fatto Ovviamente mi raccomando non trascurate mai nulla Tenete comunque sempre tutto sott'occhio per evitare qualsiasi tipo di fail Inoltre durante queste missioni siete comunque liberi di fare altro Quindi per esempio mentre aspettate gli ultimi 30 secondi Alcuni di voi possono tranquillamente andare a caccia o a pesca per incrementare il loro guadagno O ad esempio cazzeggiare nei vari saloni e farsi una birra con gli amici Ma vi ripeto che comunque ci deve sempre essere qualcuno a controllare la merce e quant'altro Quindi non è che la merce la lasciate là e vi andate a divertire tutti quanti Perché comunque qualcuno deve sempre tenere sott'occhio la missione Inoltre se vi state chiedendo Eh ma perché devo perdere tutto questo tempo quando posso fare più missioni E quindi più consegne nello stesso intervallo di tempo Questo perché oltre a guadagnare di più con questo metodo Averete più sotto controllo la situazione E soprattutto potrete fare altro mentre il tempo passa Se invece fate più consegne Vi dedicate solo a quest'ultime Guadagnerete molto di meno E poi non dimenticate che ci sono sempre i rischi Quindi potrete sempre incontrare durante le missioni i giocatori Che possano distruggervi la merce Farvi fallire la missione e quant'altro Il trucco è sempre quello di fare le missioni con una vostra squadra E avere sempre il controllo su tutto Inoltre durante queste missioni L'amministratore della community vi consiglia di utilizzare il fucile Lancaster In quanto è ritenuto più efficiente Bene ora invece parliamo di un altro metodo abbastanza buono Ovvero la pesca Come prima cosa però dovrete aver sbloccato nel vostro catalogo La canna da pesca E soprattutto un'esca adeguata Ovvero i vermi Infatti se volete pescare pesci abbastanza costosi Che vi porteranno un bel po' di soldi Scordatevelo ragazzi di farlo con un semplice pezzo di formaggio o di pane Quindi aspettate di aumentare di rango Fino a quando non sbloccherete l'esca Appunto i vermi Allora il luogo più adatto per pescare È esattamente in questo punto vicino Blackwater In questa zona infatti potrete sempre pescare Un grosso pesce Ovvero lo storione di lago Che se venduto dal macellaio Vi darà la possibilità di guadagnare Ben 7,25 dollari a pesce Questa zona è la più conveniente per pescare Perché se ci pensate Vi trovate vicinissimi al macellaio di Blackwater Quindi andate sulla riva Pescate e poi portate il pesce dal macellaio In questo modo in veramente poco tempo potrete fare un sacco di soldi Tra l'altro mentre pescate Non potrete essere uccisi dagli altri giocatori Quindi questo è ovviamente un grande vantaggio per voi Infine ragazzi se vi trovate di passaggio in questi altri punti che vi sto mostrando nella mappa Vi consiglio di fermarvi a pescare Non ci sono pesci di grandissimo valore Ma comunque possono farvi guadagnare qualche soldino Bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto E che vi sia stato utile Se è così fatemelo sapere nei commenti E magari potrei portarvi anche altri metodi sul canale Tra l'altro fatemi sapere cosa volete vedere sul canale Dedicato ovviamente a Red Dead Redemption E a Red Dead Redemption online Io voglio ancora ringraziare Domenico Nonché amministratore della community Red Dead Redemption 2 Italia Per la sua disponibilità a spiegarmi tutti questi trucchi In quanto io purtroppo in questo periodo non ho avuto molto tempo per giocare Tanto è vero che sono ancora a rango 11 E quindi è stato grazie a lui Diciamo se sto facendo anch'io un bel po' di soldi Su Red Dead online E niente ragazzi il video finisce qui Noi ci vediamo alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti